Lavori pubblici a Tortora si parte, si comincia dall'arredo del lungomare Sirimarco, l'abitumazione e opere per la raccolta delle acque bianche di alcune strade, quali via Crisose, via Guida, l'adeguamento della pubblica illuminazione finalizzata al risparmio energetico. Tutte opere che partiranno a breve, che sfrutteranno fondi del bilancio, dell'ente e contributi regionali. Tante le opere pubbliche di cui si è discusso nel corso del Consiglio Comunale tenutosi mercoledì scorso, inserite nel programma triennale, ma su molte si abbatterà la scure della burocrazia regionale, un problema che il primo cittadino, Pasquale Lamboi, ha denunciato. La Regione Calabria ha attuato spesso una politica confusionaria con fondi promessi ma mai arrivate a destinazione, ha detto, gettando nel panico i comuni che hanno prodotto progetti ed hanno sperato in questi contributi. L'amministrazione comunale ha per il momento preventivato, per l'anno in corso una prima tranche di lavori anche per il parco archeologico in località Palecastro, grazie ai fondi provenienti dai pisle, di cui si dovrebbe avere certezza breve. In attesa di una conferma definitiva anche l'avvio dei lavori della nuova sede del Museo Comunale, che dovrebbe trovare casa nel palazzo adiacente alla sede dell'Associazione Zafarana di Tortora, in pieno centro storico. Si comincia a pensare anche all'ampliamento del cimitero di Tortora, che sarà finanziato con fondi privati. Il nuovo progetto prevede quasi 300 nuovi loculi, che saranno messi in vendita preventivamente dal comune. Il cittadino interessato all'acquisto verserà il 40% del costo. I proventi saranno utilizzati dall'ente per i lavori. Il resto verrà versato dall'acquirenta d'opera conclusa. Presto il progetto sarà discusso anche in Consiglio Comunale. Unire Corso al Domore e località Poiavelli attraverso la costruzione di marciapiedi, che renderebbero percorribile e meno pericoloso anche il tratto di via nazionale, scenario di molti incidenti. Altro progetto che per l'amministrazione Lamboglia è una vera priorità, ma che per il momento diventa di difficile attuazione, visto che andrebbe finanziato con fondi regionali.